Siamo felici innanzitutto di come stanno andando le cose, perché partire bene è importante, dare un segnale e anche giocare sull'ali dell'entusiasmo è meglio, più bello. Sicuramente dobbiamo trovare un equilibrio perché ci sono tantissime partite, come ben sapete il campionato di Serie B si gioca sempre. Bisogna ad usare le forze mentali e fisiche, sicuramente ora andremo su un campo difficile, non facciamoci ingannare dalla classifica perché è presto e quindi non la guardiamo. Sapremo che dobbiamo lottare come abbiamo fatto qua in casa davanti al nostro pubblico e dobbiamo giocarcela anche fuori casa con lo stesso atteggiamento. Non ero mai partito così forte, ci avevo messo qualche giornata, tre gol in tre partite non li avevo mai fatti, quindi è un buon segnale, speriamo bene. Grazie. 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 Grazie.